Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera ci troviamo per fare una catechesi sui messaggi della Regina della Pace di Anguera. È una bellissima apparizione che avviene da circa 30 lunghi anni e seguita dalla Chiesa non è mai stata condannata assolutamente, anzi in qualche modo si può dire che viene incoraggiata da parte del Vescovo di Bahia, che è il Vescovo appunto dove ha il territorio anche Anguera. E quindi noi vogliamo leggere questi messaggi i quali contengono tante profezie che poi si sono avverate. Saluto tutti voi chi siete qui in diretta. Aramo Simona, Marina Guerrera, Anna Maria Padoano, Franca Bottaro, Genco Leonardo, Mariella Lenzo, Carmela Pezzuti, Anna Giordano, Ida Burattini, Stella Maris, Nunzia Stefano Matrullo Avella, Pedrica Veca, Maria Diaco e Giorgio Capozza, Lello Casillo, Maria Rosaria Di Flora, Rosa Chiarelli, Giuseppe Colosi, Marina Serra, Pierina Fachin, Giovanna Albano, Angela Mannatrizio, Stella Cometa, Lello Casilli, Anastasia Guarino, Margherita Zucowska, Anna Chiapparino, Paolina Pop, Maria Verta, Patrizia Moxedano, Veneranda Vuolo, Elena Amodio, Aurora Di Palma, Mariella Lenzo, Milena Giannini, Fulvio Iannitti, Oriana Gabrielli, Tettatri, Caterina Pietro, Maria Scala Riformato, Mariella Lenzo, Grazia Antonelli, Anna Unida, Maria Borgia, Rosa Chiarelli, Loredana Arena, Rossi Fulvo, Alessia Gianfelice, Salvo Scardaci, Imma Pagano, Nadia Vanni, Maria Scala Riformato, Antonella Geremia, Francesca Militello, Assunta Gheglione, Maria Antonietta Carusotto, Anna Griego, Stella Domenico Capomolla, Lucia Franchino, Caterina Barca, Giovi Canu, Lucia Del Prete, Nunzia Mamone, Kelly Cristina Piccoli, Maddalena Panza, Maria Giovanna Asero, Giulio Busceddu, Pina Gallo, Gianni Ennarita Bruno, Gloria Ammirabito, Roberto Aceto, Dora Muccilli, Dani Bielli, Valentina Paolillo, Maria Verta, Elisabetta Serafino, Concettina Donato, Clementina Giardino, Lucio Rosaria Cipolletta, Francesca Marchese, Aragona, Monica Franzoni, Pina Gallo, Lidia Turturici, Bonnis Casseddu, Pino Gabriele, Angela Sabatino, Rita Brillante e tutti voi che siete in diretta, siamo più di 220-230 circa. Bene, andiamo questa sera dunque a vedere queste apparizioni, questo messaggio. Per il momento leggeremo e commenteremo qualche messaggio, sono molto belli, molto forti, profondi, d'altronde quando parla la regina della pace, la sede della sapienza, può che essere così, e poi hanno una lettura profetica sulla storia, molto pertinente con quello che sta accadendo, basta leggere i messaggi, riflettere sui messaggi e poi guardare alla nostra realtà, alla realtà che ci circonda, dove noi siamo immersi e vediamo come questi messaggi sono veramente pertinenti e autentici nella lettura molto, come posso dire, verace di tutta la nostra storia. E chi rifiuta una parola così vera, così forte, che ci scuote, perché è una parola profetica, sicuramente rifiuta una grande grazia, di cui poi dovrà rispondere a Dio, perché se la regina del cielo viene sulla terra per guidarci in questo tempo di grande oscurità e noi rifiutiamo questa luce, non vogliamo vedere così come stanno le cose, sicuramente di questo dovremmo rendere conto a Dio. Io ci credo profondamente a questi messaggi, li ho sentiti veri fin dall'inizio, anzi ho sentito quasi una chiamata da parte della regina della pace di Anguera di diffondere i suoi messaggi e li diffondo da diversi anni, così come sto diffondendo anche i messaggi della regina della pace di Međugorje, è sempre la stessa regina della pace, soltanto che utilizza Međugorje un tipo di pedagogia che è quella dei segreti. Ad Anguera invece non parla attraverso i segreti, ma parla rivelando già i segreti a coloro che vogliono ascoltare, un po' come faceva Gesù, che alle folle parlava in parabole, ai suoi invece rivelava esattamente quello che doveva avvenire e come stavano le cose. Quindi cerchiamo di essere attenti a comprendere bene questi messaggi, vi chiedo di non fare dei commenti troppo espliciti oppure dei commenti che siano irrispettosi nei riguardi di chiunque, basta capire le cose, capire come stanno le cose e sforzarci di seguire i messaggi della Madonna in quello che ci dice, fare discernimento tra il bene e il male, il vero e il falso, la fede e ciò che fede non è, tra la grazia e il peccato. La regina della pace ci aiuterà. Anche questa bella immagine di questa Santa Vergine vestita di bianco e luminosa, circondata di stelle e con tutta questa marea di persone dietro di lei, che sono tutti coloro che accorrono quando c'è la festa ad Anguera, ecco ci aiuta ad entrare in questo clima. Come ho già fatto vedere altre volte, proprio per fugare ogni dubbio, che siano dei messaggi eretici, dei messaggi che non siano conformi alla fede, che siano dei messaggi frutto di esaltazione, vi faccio ascoltare il video del Vescovo di Bahia, che ha dato una parola chiave. Dunque la Chiesa non approva e neanche disapprova i messaggi, lo stesso il Vaticano osserva con attenzione le apparizioni. Da più di vent'anni c'è una commissione episcopale che segue questi messaggi e mai ha condannato neanche un solo messaggio. E mai ha detto che i messaggi non devono essere diffusi. Anzi, in qualche modo, se voi leggete tra le righe, il Vescovo di Bahia dice che dobbiamo ascoltare la Madre di Gesù per fare quello che Gesù vuole. In qualche modo dice che dobbiamo ascoltare i messaggi per fare quello che Gesù vuole. Non lo dice in modo esplicito, è un po' un modo di parlare dei Vescovi per non esprimersi, diciamo in modo troppo chiaro e impegnarsi con autenticità. Perché ancora il giudizio autentico sulle apparizioni non c'è, però c'è sicuramente una grande attenzione della Chiesa e una propensione della Chiesa a provare. Tant'è che ad Anguera il Vescovo ha mandato anche dei sacerdoti per seguire, per insegnare la dottrina cattolica. Tutto quello che c'è scritto nei messaggi dice che il Vescovo è cattolico. Non c'è nulla che sia al di fuori della dottrina cattolica, soltanto che c'è una dottura profetica, potremmo dire anche apocalittica, che non è un termine negativo, perché uno dei libri, almeno uno dei libri della Bibbia è l'Apocalisse, che ha tutto uno stile apocalittico. Ma poi anche nel Vangelo abbiamo dei brani apocalittici, come anche nell'Antico Testamento, ad esempio nel profeta Daniele ci sono dei brani apocalittici. Dunque, lo stile apocalittico è proprio della scrittura. E allora, anche nei messaggi della Regina della Pace di Anguera c'è uno stile apocalittico che va accolto e compreso. Ci sono delle profezie che sono realizzate e questo è uno dei criteri fondamentali per capire se un profeta viene da Dio. Dice la scrittura, se il profeta dice qualcosa che io non ho detto, la sua parola non si avvererà, dunque tu non devi temere quel profeta. Ma se quel profeta dice qualcosa e la sua parola si avvera, allora temi quel profeta perché sono io che l'ho inviato. La Madonna, Regione della Pace di Anguera, ha dato tantissime profezie, le potete trovare con molta facilità in internet, che si sono realizzate. Purtroppo profezie negative, chiaro perché una madre mette in guardia i propri figli. D'altronde non ha fatto così anche la Madonna a Itapiranga, chiedo scusa, a Kibeho in Africa, non ha fatto così anche ad Akita, non ha fatto così anche a La Salette, non ha fatto così anche in tante altre parti del mondo, in modo particolare a Fatima, ecco dove ha profetizzato la Seconda Guerra Mondiale. Dunque per il fatto che la Madonna profetizzi degli eventi catastrofici non vuol dire che non è la Madonna, anzi ancora di più la Madonna ci mette in guardia per questo tempo perché ormai lo sappiamo tantissime profezie di Santi ma anche tanti documenti pontifici come anche interventi di San Giovanni Paolo II e anche dello stesso Benedetto XVI parlano di un tempo difficilissimo dove l'umanità è a un bivio, potrebbe fare di questa terra un giardino, ha detto San Giovanni Paolo II, oppure un ammasso di macerie. Quindi stiamo attenti a questi messaggi, cerchiamo di comprenderli perché sappiamo anche come Giovanni Paolo II ha parlato di una grande apostasia silenziosa che sta facendo perdere la fede a milioni di persone. pensate ai popoli del nord Europa ma anche alla stessa Francia o alla Spagna o a tutte le legiferazioni che hanno fatti i governi di varie parti del mondo, specialmente in Occidente, che sono direttamente contro i comandamenti di Dio, contro il Vangelo, contro il Magistero autentico della Chiesa come è anche avvenuto in Italia. Dunque sono messaggi importanti. ascoltiamo con attenzione ancora una volta quello che ha da dirci il Vescovo di Bahia nel quale territorio si trova anche a Nguera. Leggo il commento. Infatti il Vescovo ha la responsabilità, risponde, di custodire e seguire il popolo ed essere presente nella vita delle persone. Qui in Feira di Sant'Ana, da un luogo, esistono le apparizioni della Madonna di Anguera. Queste apparizioni vengono seguite con molta prudenza ed è costituita una commissione per valutare con attenzione. Non c'è una posizione definitiva perché è un'esperienza personale, soggettiva, che noi rispettiamo, ma non possiamo ancora affermare se è falsa o se è vera. Ma questo avvenimento possa di fatto aiutare le persone a seguire i passi di Gesù e fare tutto ciò che la mamma di Gesù ha detto. Fate tutto quello che Lui vi dirà. Che veramente questo avvenimento nella nostra vita ci invita a puntare su Gesù che ci ha amato senza imporre condizioni. Come la Chiesa affronta questo fenomeno religioso, dice il giornalista, risponde il Vescovo. La Chiesa segue con la presenza dei sacerdoti, con la commissione, con il discernimento. Adesso è in corso un processo di studio e di riflessione. Anche la Chiesa di Roma ci chiede di questa realtà e poca alla volta abbiamo il discernimento. Sono arrivato da poco e anch'io mi adeguo a fare, a dare continuità alla preoccupazione di Don Itamar Vescovo, mio predecessore, questo desiderio che tutto ciò che è a servizio del Vangelo possa essere manifestato e rispettato, se per caso questi avvenimenti vengono da Dio, come dice la tradizione, tutto ciò prevarrà. È un movimento cattolico in cui le prediche sono basate sulla catechesi della Chiesa. Chiediamo a Dio e allo Spirito Santo il discernimento, discernimento, per capire quello che è vero e quello che servirà per la salvezza delle persone. Ecco carissimi, come vedete il Vescovo è tutto in positivo riguardo ai messaggi, non ha detto una parola che possa contrastare l'autenticità delle apparizioni, anche se c'è una propensione a dire che le apparizioni sono vere, non in modo esplicito ma in modo implicito, quando dice che dobbiamo seguire la madre di Gesù per fare quello che vuole Gesù e dice ancora se tutto questo è vero e viene da Dio, prevarrà, come ha detto il giusto gamaliere, che non abbiamo a trovarci a lottare contro Dio. Eppure ci sono alcuni che attaccano in modo veramente esplicito questi messaggi, queste lezioni, ma anche in modo, posso dire, illogico, contro quello che è la posizione della Chiesa. La Chiesa dice questo, noi dobbiamo seguire quello che dice la Chiesa. La Chiesa lascia liberi, anzi in qualche modo invita, perché dice questo è un movimento cattolico. Dunque questo dei messaggi di Anguera, di Pedro Regis, è un movimento cattolico, dunque in qualche modo approvato dalla Chiesa, in modo implicito se non esplicito, altrimenti sarebbe già stato condannato dal vescovo locale e anche, e ancora di più, dalla congregazione per la dottrina della fede, se c'era qualche cosa che andava contro la fede. Si vede che non c'è neanche un punto che sia andato contro la dottrina della fede cattolica, altrimenti sarebbe già stato condannato. Adesso andiamo a leggere direttamente qualche testo di qualche messaggio, e vedrete come sono dei messaggi veramente... Ecco, adesso andiamo a leggere... I messaggi della Regina della Pace ad Anguera dati a Pedro Regis. Messaggio numero 2464 dell'1.1.2005. Dice la Regina della Pace. Cari figli, una grande moltitudine attende un segnale. Si sentono pianti e lamenti, e una madre perde suo figlio. Ce l'asterisco giù per spiegare. Il 2 aprile 2005 moriva Papa Giovanni Paolo II. La profezia è di gennaio. La morte del Papa sarà ad aprile. Oggi vi invito ad accogliere con sincerità i miei appelli, perché solo così potete testimoniare la mia presenza in mezzo a voi. Intensificate le vostre preghiere in questi tempi difficili per l'umanità. Confidate nel Signore. Il Lui è la vostra speranza e la vostra gioia. Non scoraggiatevi. Il Signore non vi lascerà a soli. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Ecco come vediamo fa la profezia della morte di San Giovanni Paolo II. Una madre perde suo figlio. La madre della Madonna e il figlio è San Giovanni Paolo II. E ci invita ad accogliere con sincerità i suoi appelli. Dice di intensificare le preghiere in questi tempi difficili per l'umanità. E li vediamo. Di confidare nel Signore. Il Lui è la nostra speranza e la nostra gioia. Di non scoraggiarvi, perché il Signore, anche se abbiamo perso un così grande Papa, non ci lascerà soli. Continuerà a seguirci e a guidarci in questo tempo di grande confusione. Andiamo all'altro messaggio. 2465 del 4-1-2005. Cari figli, l'umanità ha bisogno di pace ed è giunto il momento di convertirvi e assumere il vostro vero ruolo di cristiani. Vi invito a cercare forza nell'eucaristia e nella parola di Dio. Perché solo così potete sopportare il peso delle prove che già si stanno preparando. Si avvicina una grande tempesta e la grande imbarcazione è giunta e raggiunta dalla tempesta. parla della Chiesa Cattolica. Inginocchiatevi in preghiera. Ecco i tempi delle grandi tribolazioni che vi ho annunciato in passato. Confidate pienamente nel Signore per essere vittoriosi. Avanti con coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Ecco il cuore di questo messaggio è «Si avvicina una grande tempesta e la grande imbarcazione è raggiunta». Mi sembra di sentire Benedetto XVI. In occasione della morte del Cardinale Meisner, il Papa Benedetto XVI scrisse una lettera di commiato per questo bravo cardinale e disse che la Chiesa sembra una barca che sta per affondare. Parole di Benedetto XVI. Quindi dobbiamo fare veramente attenzione. Ecco la grande tempesta. Questo era nel 2005 questo messaggio. Il Papa l'ha scritta quella lettera circa un anno e mezzo fa, se non erro. Adesso non ricordo bene la data della morte del Cardinale Meisner. Comunque ha detto più o meno le stesse parole. Anzi, che la Chiesa sembra una barca che sta per affondare. Parole gravissime dette da un grande Papa fino a quando è stato in carica come Benedetto XVI. Andiamo avanti. Messaggio 2466. 6-1-2005. Cari figli, dalle acque profonde verrà il distruttore. Per causa sua diverse nazioni soffriranno. Il tempo si avvicina e il mio popolo soffrirà molto. Ora vivete i tempi delle grandi prove per l'umanità. Pregate. Solo per mezzo della preghiera potete trovare consolazione e pace. O uomini, tornate finché c'è tempo. Guardate i segni che Dio vi manda e convertitevi. Dio vuole la vostra salvezza. Allontanatevi dal peccato. Tornate alla grazia di Dio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Ecco, questa è la frase, diciamo, importante oltre a tutto il resto, chiaramente. Dalle acque profonde verrà il distruttore. Per causa sua diverse nazioni soffriranno. Chi è questo distruttore che viene dalle acque profonde? Non lo sappiamo, però sappiamo che verrà. E chissà, forse già in mezzo a noi. E per causa sua, dice la Madonna, diverse nazioni soffriranno. Così come a Fatima la Madonna aveva profetizzato che diverse nazioni sarebbero sparite a causa del comunismo e purtroppo così è stato. messaggio 2467 dell'81-2005. Cari figli, quando il Re sarà tolto dal suo trono, inizierà la grande battaglia e la luce perderà il suo splendore. Vi invito a vivere rivolti verso il Signore, che è la vostra unica speranza in questi tempi di tribolazioni. Io sono vostra madre addolorata e soffro per ciò che vi attende. Dite no al peccato e tornate a Gesù. Non dimenticate, solo in Lui è la vostra salvezza. Avanti con coraggio. Ecco dunque, questa è la frase importante. Quando il Re sarà tolto dal suo trono, inizierà la grande battaglia e la luce perderà il suo splendore. Chi è questo Re che sarà tolto dal suo trono? In questo caso non è San Giovanni Paolo II, ma è Benedetto XVI. E il Re della Chiesa, simbolicamente, che viene tolto dal trono, quindi il Sommo Pontefice che regna sulla Chiesa. Quando ciò sarà avvenuto inizierà la grande battaglia e la luce perderà il suo splendore. Che cos'è questa luce che perderà il suo splendore? È la verità. La luce e la verità si identificano. Gesù ha detto io sono la luce del mondo e ha detto anche io sono la via, la verità e la vita. Dunque la verità perderà il suo splendore. Perché? Perché l'insegnamento della Chiesa non sarà più così chiaro, non sarà così splendente, tant'è che tanti cardinali, anche tanti vescovi, tanti sacerdoti hanno denunciato in questo tempo che c'è confusione, che non c'è più chiarezza nell'insegnamento che la Chiesa sta dando. Quindi bisogna veramente fare attenzione a rimanere ancorati al Vangelo principalmente, così come la Regione della Pace continuamente ci dice, all'autentico Magistero della Chiesa che è quello che per duemila anni è stato insegnato e che noi troviamo così ben ordinato e armonicalmente organizzato nel Catechismo della Chiesa Cattolica, voluto da San Giovanni Paolo II proprio per questi tempi e coordinato da Benedetto XVI, che era cardinale e dunque prefetto della congregazione per la dottrina della fede. Dunque è un grande dono che Dio ci ha fatto attraverso questi due grandi papi, Benedetto XVI dopo e prima San Giovanni Paolo II. Dite no al peccato e tornate a Gesù, perché oggi tante volte si sente che il peccato viene giustificato. Purtroppo è cronaca di alcuni cardinali e anche vescovi che insegnano delle cose che non sono secondo il Magistero autentico della Chiesa e vediamo che ci sono state anche alcune rimostranze fatte ad esempio dai vescovi tedeschi nei riguardi di alcuni insegnamenti fatti da altri vescovi che non sono conformi alla dottrina cattolica. Quindi ci troviamo in un momento veramente molto difficile per la Chiesa. Negare questo significa negare l'evidenza, negare la verità, negare i fatti storici, andare a cercare queste cose semplicissimo, basta anche leggere i giornali perché si trovano anche sui giornali di uso così normale, di cronaca queste notizie, non soltanto nei giornali specialistici di religione. Ormai sono delle notizie che dilagano su tutta la stampa. Messaggio 2468 dell'11.1.2005 Cari figli, una grande città è in macerie e non ci sarà più re sul suo trono. In vano dissero, l'oro non è più oro. Questa sera vi chiedo di intensificare le vostre preghiere per la pace nel mondo e in riparazione dei peccati commessi contro il cuore di mio figlio Gesù. Contro il cuore di mio figlio Gesù. Questa indicazione è molto chiara perché la spiritualità del Sacro Cuore di Gesù è prettamente sacerdotale. Quindi i peccati contro il cuore di Gesù probabilmente sono peccati commessi dai consacrati. Questa è una cosa molto grave. Confidate nel Signore perché solo in Lui è la vostra vittoria. Non scoraggiatevi, non tiratevi indietro. Chi è con il Signore vince. Avanti. Ecco dunque una grande città in macerie e non ci sarà più re sul suo trono. Parole molto forti che bisogna saper interpretare. Messaggio 2469 12.1.2005 Cari figli, il terribile attacco all'oppressore lascerà una grande moltitudine oppressa. Una grande moltitudine cammina in direzione di una fonte di acque cristalline dove non ci sarà più sofferenza. Ecco i tempi da me predetti. Vi chiedo di avere una fiducia illimitata nel Signore. Voi siete importanti per la realizzazione dei miei piani. Non restate con le mani in mano. Ho bisogno della vostra sincera e coraggiosa testimonianza. Pregate. Pregando potete sopportare il peso delle prove che verranno. Avanti senza paura. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Sono parole che non sono difficili da interpretare, quindi le lascio a voi. Messaggio numero 2470 del 15.1.2005 Cari figli, un'immensa palla di fuoco verrà lasciando un grande deserto. Che cos'è questa immensa palla di fuoco? Un meteorite? Oppure una bomba atomica? Non sappiamo. Un'immensa palla di fuoco verrà. Ovunque si udranno grida e lamenti. È l'ora del Signore. Tante profezie profetizzano proprio di questo asteroide che dovrebbe cadere sulla Terra. D'altronde già nel passato, lo sappiamo, a livello scientifico, tanti asteroidi sono caduti e hanno creato grandissimi catastrofi a livello planetario di tutta la Terra e hanno fatto scomparire tantissime specie di animali e di piante. Dunque questo potrebbe ancora avvenire per il futuro. Però la Madonna ci ha detto che se noi preghiamo, se noi veramente imploriamo la misericordia di Dio, questo potrebbe essere evitato, perché Dio è il Signore dell'Universo. Nelle Madonna ci sta profetizzando questa immensa catastrofe. Invece di dire no, non voglio ascoltare, no, voglio mettere da parte questi pensieri, preghiamo e prendiamo con serietà questi messaggi. Pensate a quello che ha detto la Madonna ad Achita. Ad Achita aveva profetizzato un macello, un massacro immenso. Proprio oggi sentivo anche parlare di questo. Sono stati circa un milione morti a Kibeho, o meglio, in Ruanda, Burundi, dove si trova anche Kibeho. E la Madonna ha fatto vedere ai vie genti, alcuni dei quali sono stati massacrati insieme con tutti gli altri. Immersi in moltitudini fatti a pezzi, teste tagliate, braccia mozzate, gambe spezzate, un immenso macello. Però non ci hanno creduto e purtroppo, non avendo fatto quello che la Madonna ha detto, non convertendosi, quello è avvenuto. Dunque anche questo può avvenire, cioè che cada un asteroide, un meteorite e produca un grande deserto e sconvolga un po' tutto il pianeta. Non voglio obbligarvi, dice la Madonna, ma ascoltatemi con attenzione. Abbiate cura della vostra vita spirituale. Le cose del mondo passano, ma quelle del Signore sono per sempre. Convertitevi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Messaggio numero 2471 del 18-1-2005 Cari figli, la luce perderà il suo splendore, in pieno mezzogiorno, e gli uomini cadranno a terra dalla paura. La morte di un uomo provocherà grande ira e molti innocenti soffriranno. Aprite i vostri cuori alla grazia del Signore. Il pentimento è il primo passo che vi porterà a Dio. Non restate con le mani in mano. Date il meglio di voi a colui che vede nel segreto e vi conosce per nome. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Dunque la luce perderà il suo splendore in pieno mezzogiorno e gli uomini cadranno a terra dalla paura. Cosa sarà questa luce che perde il suo splendore? Altri messaggi lo approfondiranno. Messaggio del 1472 numero del 19-1-2005 Cari figli, un uomo ben vestito entrerà nella casa di Dio e occuperà un posto di rilievo. A lui si uriranno i nemici di Dio e faranno grandi danni per tutta l'umanità. Questi avranno l'apparenza di un uomo buono e affascineranno molti. La pietra non vacillerà perché Dio è fedele alle sue promesse. Depositate tutta la vostra fiducia nel Signore. Coloro che seguono fedelmente il Vangelo e accolgono i miei appelli non sperimenteranno mai il peso della sconfitta. non scoraggiatevi. Avanti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Ecco, lo lascio questo messaggio alla vostra interpretazione. Chiedete la luce della grazia dello Spirito Santo per capire cosa la Madonna vuole dire in questo messaggio. Siamo già alle 23. Ancora qualche minuto e poi concludiamo questa diretta. messaggio 2473 del 22 1 2005. Cari figli, in una regione della terra della Santa Croce, Brasile, che in passato elevò molti uomini e impoverì molti a causa di un famoso frutto, accadrà una grande catastrofe che richiamerà l'attenzione del mondo. Non si sentirà più il profumo di quel frutto. La vita senza Dio perde valore ed efficacia. Dio non abbandona i poveri. I ricchi avranno da lamentarsi. Pregate. La vostra forza è nella preghiera. Non scoraggiatevi. Chi è con il Signore non sarà mai confuso. Coraggio. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Ecco dunque qui c'è una profezia della Madonna sul Brasile. Una grande catastrofe in una zona del Brasile dove i ricchi avranno da lamentarsi perché non guadagneranno più e forse perché si troveranno in grande disagio. Ecco adesso leggiamo quest'ultimo messaggio e poi concludiamo la diretta. Messaggio 2474 del 25.1.2005. Cari figli, la lotta tra due giganti causerà la morte di molti innocenti. La fuoria della belva lascerà migliaia di cadaveri sparsi a terra e l'umanità passerà per il dolore. Vi chiedo di pregare supplicando la misericordia di Dio per voi. Non allontanatevi dal Signore. Tornate a Gesù. Solo in Lui è la vostra vera liberazione e salvezza. Non restate con le mani in mano. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Ecco come vedete anche qui si annuncia una grande catastrofe per l'umanità la quale passerà attraverso il dolore. Purtroppo sappiamo che tantissime profezie parlano di castigli a causa dei peccati che stanno dilagando in modo spaventoso su tutta la faccia della terra. E il peccato ha in sé sempre due conseguenze. La sofferenza, la morte e possiamo aggiungere la perdizione per chi non si converte. Quindi cerchiamo di essere fedeli, preghiamo secondo gli appelli incessanti della Madonna a Meggiugorie, ad Anguera, ma ancora prima a Fatima, all'Urd, alla Salette, ad Achita, a Chibeco e in tutte le parti del mondo dove le apparizioni della Madonna sono state provate. Poi ci sono anche quelle che non sono state provate, che hanno il loro valore perché si vede che hanno l'autenticità, anche se non c'è stata una proiezione esplicita e neanche magari una condanna esplicita. Quindi carissimi, ecco vi lascio con questi messaggi, se volete potete trovare il file con molta semplicità anche attraverso Google, in internet e potete leggervi tutti questi messaggi che sono molto importanti, profondi, ma anche profetici e capaci di farci capire il tempo di grande confusione morale, spirituale, sociale, culturale, politica che stiamo vivendo e che avranno questa confusione e questo allontanamento da Dio con la moltiplicazione dei peccati, delle conseguenze purtroppo molto dure e un po' per tutti. Anche i giusti soffriranno, gli ingiusti soffriranno a causa dei loro peccati e Dio non voglia, potrebbero anche dannarsi. I giusti invece soffriranno ma si salveranno e acquisteranno meriti. Però anche molti giusti, ciò che vivono seguendo i messaggi della Madonna e sforzandosi a mettere in pratica il Vangelo, si salveranno e vedranno un grande tempo di pace dove il cuore immacolato di Maria trionferà secondo la sua promessa. Adesso vi do la benedizione finale dopo qualche preghiera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo o così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci adurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. All'angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fai affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, donna loro, Signore, esplende ad essi la luce perpetua. Riposen in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidi e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo. E tu, con il divin potere, incatene nell'inferno, satane gli altri spiriti maligni, che vanno vagando per il mondo, a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Regione della pace di Anguera, prega per noi.